Siamo con mister Michele Serena al termine di Feralpi Salomantova 0-1 l'abbiamo detto anche col presidente una partita nata male visti subito i primi infortuni il gol è continuata diciamo con dei problemi fisici e non è arrivato diciamo la risposta sul campo una partita anche sfortunata a tratti ma è grosso rammarico il più grosso è che probabilmente perderemo tra calciatori tra i ragazzi per per un po di tempo dovuto degli infortuni e per cui ci priverà di poter fare delle scelte anche anche in futuro una partita a due volti penso in cui il primo tempo sinceramente con molta onestà e sincerità non mi è piaciuto molto l'atteggiamento della squadra mentre nel secondo sì non penso sia un caso che sono arrivate anche le occasioni da gol la palla dentro fuori il gol annullato e altre circostanze per cui io penso che dobbiamo dobbiamo ragionarci su e cercare di ripartire dal secondo tempo per lo meno per l'atteggiamento giusto che c'è stato nel secondo tempo adesso ci sarà una settimana un po più normale in vista poi della partita contro il forlì una squadra ovviamente da rispettare che sta facendo bene quindi sicuramente ci vorrà molta molta attenzione ma squadra ha molta qualità qualità associata ad una aggressività notevole ce l'hanno fatto vedere anche oggi ma noi sapendolo dovevamo farci trovare pronti da subito quindi abbiamo commesso questo errore e spero mi auguro insomma che non che non succederà più altrimenti è inutile preparare le partite guardare gli avversari delle partite precedenti e non far tesoro di quelli che possono essere dei suggerimenti grazie mister serena grazie grazie grazie